aspetta che c'è una cimice aspetta un momento che prendo il video ci siamo? vai ma si mangia lì, hai capito? grazie ah ecco perché lì si mangia vai schiscio si Charlie ha convincente con le zampe non è un corvo? è un corvo è un corvo dove è il corvo? stava volando stava volando